Grazie a tutti. Grazie a tutti. 10 secondi, 5, 3, 2, 1... 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 11 secondi, 5, 3, 2, 1... Grazie. 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 e... ecco più tempo sei? vai! il piede l'avete visto male dove mi imprimava atti, battereci poi te la gestavi dopo batti con questo? ok è fatta è fatta gioca è fatta è fatta è fatta gioca si ok lui è uscito davvero e... sta sono ok ma dopo ci 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 si Questo qui è andato addosso al preso, credimi, credimi, credimi a me, questo ha fatto, guarda, così, me l'ha spostato al Swiss, quindi si riparte praticamente, e lui c'ho trento, vai. Grazie. 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 Grazie.